Grande attesa per la sfida tutta italiana per il titolo dell'Unione Europea dei Pesi Supergallo a salire sul Ring al Palasporto di Via Goldoni a Vicenza. Sabato prossimo 20 maggio alle 20 il 24enne Vicentino Doc Luca Rigoldi, neocampione italiano e il due volte olimpionico Vittorio Parrinello. Fugilato è uno sport fatto di tanti valori, fatto di sacrificio, fatto di passione. È uno sport che è stato messo un po' nel dimenticatoio della gente e speriamo di riuscire a portare a Vicenza quelli che sono veramente i valori di questo sport così importante e storico.